Ci sembra un po', vogliamo chiarire questa cosa con i nostri telespettatori perché quasi giornalmente o a cadenza di due o tre comunicati e stampa settimanali arrivano notizie da Corneone che vengono finanziati, lavori, progetti, palestre, interi quartieri, fogne, tutti questi soldi, tutti questi finanziamenti, come arrivano e da dove arrivano? Beh, devo dire che c'è un grande lavoro alle spalle. Ci sono rapporti e relazioni che sono maturate nel tempo con il Governo nazionale, con il Governo regionale, con la città metropolitana che consentono intanto di avere le notizie, di avere le notizie qualche volta anche prima che i bandi escano perché spesso i bandi attualmente vengono pubblicati e danno tempo 30 giorni per poter fare i progetti e presentarli. 30 giorni sono un tempo molto stretto anche perché i comuni hanno apparati burocratici molto ridotti e quindi non sempre si è innato di fare quello che chiede il bando nei tempi prescritti. Allora sapere che il bando esce fra 15 giorni, quando è ufficiale e poi saperlo 15 giorni prima, già si dà un margine temporale per attrezzarci e poter concorrere. Questo ci ha consentito proprio nell'arco di 3-4 mesi, questi ultimi di questo anno 2022, di presentare progetti per circa 52 milioni di euro. Cosa sono? Vogliamo ripetere la cifra, cioè parliamo del paese di Corneoni, 10 mila abitanti. In 3 mesi presentiamo... ...per 52-53 milioni di euro, ora le dico quali sono. Il primo bando è del Ministero della Transizione Ecologica, cosiddetto MITE, che ha pubblicato bandi per costruire impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti. Voi sapete come in Sicilia siamo messi malissimo per questi conferimenti e poi il trattamento. Spesso questi rifiuti vanno all'estero, vanno fuori o comunque lontano e costano tantissimi ai cittadini, all'amministrazione e quindi ai cittadini, perché la tassa dei rifiuti la pagano tutti i cittadini. Noi abbiamo presentato un bando per conto dei 23 comuni della SRR Palermo-Ovest. Il Comune di Corneoni è stato delegato a presentare il bando perché c'ha il terreno, c'aveva anche un progetto quasi pronto, per 31 milioni di euro. Riteniamo che il progetto è molto bello, che sarà approvato e questo sarà uno sfogo enorme di interesse comunitario, cioè di 23 comuni, e quindi faremo una grande operazione di servizio a tutta la comunità. Poi abbiamo presentato sempre negli stessi giorni un bando per 15 milioni di euro, questa volta del Ministero per il Sud, sui sistemi ecosostenibili. Sono quei sistemi che intervengono sul territorio per rendere più sostenibile l'ambiente, migliorare la qualità e dare servizi migliori. Noi abbiamo un impianto di acqua e reflue che, costruito ai tempi in cui io sono stato sindaco, la prima volta mai entrato in funzione, adesso lo stiamo riprendendo insieme con l'Università, col Consorzio di Bonifica e col Consorzio Agrobiopesca. Abbiamo fatto un progetto di 15 milioni di euro, che ha superato una prima fase di selezione di 700 progetti, perché dovevano essere messi 350 e abbiamo superato il primo step. Poi abbiamo fatto il progetto per l'altro, adesso per il finanziamento. E noi abbiamo buone speranze che anche questo avvenga, sono 31 e 15 e 46. Poi abbiamo presentato tre progetti sui beni confiscati dalla mafia, proprio a fine marzo, adesso c'è una progetto del 22 aprile, per circa 7 milioni di euro. Quindi sono dei progetti, anche questi, fatti sempre al Ministero per gli Studi. Quindi 46 e 7 sono 53. Ce ne sono altri. Tendiamo del PNRR. Questi sono tutti i progetti del PNRR. Cosa servirebbe ai comuni, a tutti i comuni per la verità? Servirebbe che le strutture burocratiche venissero rafforzate, perché l'unica maniera per poter dare risposta a questi bandi, la risposta significa opportunità, perché se riusciamo tutti i comuni a fare tesori e a utilizzare questi fondi, chiaramente il nostro territorio cambia volto e quindi faremo una grande pressione. Per non parlare sempre dell'SP4, per la quale è arrivato il terzo finanziamento sulla frana di Petralunga, di 5 milioni e 350 mila euro, che sostanzialmente è quasi la parte conclusiva dell'SP4 fino a Cordona San Ciperello. Sull'SP2 ci sono pure interventi in corso che stiamo portando avanti con il contributo prezioso della città metropolitana di Palermo. Come fa il sindaco Nicolosi non solo a seguire questa progettazione, questi bandi, ma poi ad avere gli uffici che possano venirgli dietro, ovviamente portare avanti, perché se poi non ci sono gli apparati, appunto come diceva, che seguono questi progetti, diciamo che vanno a mare. No, avremmo bisogno di supporti, qualche cosa l'abbiamo trovata, perché poi appunto queste relazioni di cui parlavo ci portano ad approfittare di altre situazioni. Abbiamo stipulato una convenzione con l'Ispettorato Tecnico Regionale dell'Assessorato di Infrastrutture per avere da parte loro un tecnico molto bravo, perché lavori al Comune di Corleone su alcuni progetti, vedi l'impianto tecnologico, vedi i beni confiscati dalla mafia e con l'intelligenza che abbiamo riscontrato presso l'Assessorato ci hanno messo a disposizione, credo che siamo l'unico Comune in Sicilia, un tecnico di grande professionalità che da lunedì verrà a lavorare al Comune di Corleone per portare avanti questi progetti. Ho contatti con l'Agenzia del Demanio, che è autorizzata dal Governo nazionale a collaborare con i Comuni per progettazioni specifiche, in particolare su beni demaniali. Ho già avuto questi contatti e mi hanno detto che appena sarà breve, saremo pronti per altre progettazioni, anche loro ci danno una mano. Attualmente lavoriamo con quello che troviamo fuori, perché all'interno dovremmo essere autorizzati a fare concorsi e ancora non ci hanno autorizzato. Quante ore al giorno lavora, Nicolosi? Io ricordo i tempi in cui la politica è stata molto attaccata, forse anche con ragione, quando in politica si faceva un lavoro che comprendeva anche le giornate da lunedì al venerdì, ma anche il sabato e la domenica, dedicate al rapporto col territorio. Si andavano ai paesi, si incontravano le persone, si partecipava a incontri o anche a matrimoni, in battesimi ed altro, era un rapporto relazionale con il territorio e le persone, che consentiva anche di acquisire elementi conoscitivi per portare avanti i problemi. Poi adesso questa abitudine è stata perduta, adesso non si vede un deputato da nostre parti che sarà quanto tempo. Adesso mi sembrano più turisti della politica che non politici sul territorio. Noi abbiamo conservato quelle abitudine e il non farlo, devo dire, per alcuni anni mi ha pesato. Adesso ho ripreso lo stesso allenamento di prima. Oltre tutta questa progettazione odierna, parliamo anche un po' di quello che è già stato messo addirittura in cantiere. Oltre che, non so, avete partecipato anche ai bandi, perché ci sono bandi per la ristrutturazione dei beni architettonici. Abbiamo partecipato e devo dire che abbiamo già alcuni finanziamenti in corso. Io non so quante cose ci sono a Collone, dovrei avere un elenco, però ogni giorno un figlio tecnico con ritardi, almeno rispetto a quello che io spero possa venire più presto, ma con prontezza, mi dicono finalmente abbiamo questo progetto esecutivo pronto, stiamo intervenendo con un progetto esecutivo su quello che è stato il dissesto idrogeologico gravissimo conseguente all'alluvio del 2018. E abbiamo avuto finanziati i progetti su tre aree, che erano quelle da cui è arrivata l'acqua verso il paese. Tutti questi finanziamenti sono dal ministro dell'interno per fare la progettazione e poi vari ministeri per intervenire. Dico, c'è tanto. Obiettivamente, io ricordo la prima sindacatura dove in particolare sulla viabilità abbiamo prodotto risultati che portarono a interventi per circa 100 milioni di euro. Io spero che queste cose non si faranno tutte durante questa mia consigliatura, perché finirà fra due anni. Spero che chi verrà dopo non perda questa opportunità, perché queste cose poi dureranno nel tempo perché un finanziamento che arriva ora non si traduce subito in opera, ci vorranno due, tre anni, quattro anni per poterla realizzare. Mi auguro che tutto il lavoro che stiamo facendo sia un patrimonio di cui gli amministratori che verranno tranno conto per fare in modo che si produca quel cambio di prospettiva a cui noi stiamo lavorando. Grazie.